sulla vicenda ex Ilva. E da Taranto nasce lo sportello di medicina democratica presso la sede del sindacato che sulla vicenda ex Ilva commenta l'accordo Arcelor Mittal è una farsa. La ritroviamo dopo alcuni momenti anche concitati in merito alla fabbrica di Taranto, all'acciaieria e poi quelle cause portate a Strasburgo in attesa di una risposta per collegare una volta per tutte in maniera diretta alla morte, a quello che lì dentro accade. Ad esempio dal punto di vista della sicurezza. Voi oggi dite che Arcelor Mittal resta una fabbrica ad alto rischio di incidenti, resta una strage quotidiana? Sì, resta tuttora oggi una strage quotidiana perché non è più impensabile che si deve decidere solamente per il profitto di pochi, ma non pensare realmente alla salute del cittadino e del lavoratore. Così la FLM Uniti Cube a Taranto commenta l'ancora complicata situazione del siderurgico ionico. Nell'occasione è stata però presentata una importante novità. Nel capoluogo ionico nasce uno sportello salute di medicina democratica. Sarà possibile ottenere il diritto al riconoscimento di malattie professionali e postumi di infortunio, rendita ai superstiti a segno di accompagnamento, danno differenziale, l'indennizzo della legge 210, benefici per l'amianto, la legge 104, la 68, handicap, cause di servizio, inabilità e invalidità civile. Nel corso dell'appuntamento con la stampa erano presenti anche Maurizio Puma, dirigente nazionale del sindacato ed esperto di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha approfondito il tema, e Mario Murgia della IEA, l'associazione italiana degli esposti all'amianto. Avere medicina democratica anche a Taranto era fondamentale. Noi riteniamo che ci sia bisogno di assistere queste persone, sia lavoratori che cittadini, a vedere quello di cui hanno diritto ad essere seguiti in questo percorso di risarcimento, sia per le malattie professionali, sia per eventuali infortuni, sia per i decessi che ci sono stati. L'operaio deve partecipare a questi procedimenti, non può delegarli a soggetti terzi, perché viene a mancare una componente fondamentale. Un intervento il vostro che arriva a qualche ora da un preaccordo firmato tra IEA di Manistrazione straordinaria e ArcelorMittal, come lo valutate? Ci batteremo affinché quella fabbrica venga fermata, vengono fatti le bonifiche, venga smantellata, decontaminazione e bonificato tutto il territorio.